Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento il piccolo, ma nemmeno tanto, Twilight Inscription, gioco della Fantasy Flight Games, portato in Italia da Asmod Italia, che ancora una volta accolgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore, come sempre, ed è il fratello maggiore di un gioco che sicuramente non si vedrà, però ce l'abbiamo lassù in cima, Twilight Imperium, giunto alla sua quarta edizione, e questo praticamente non ne è il successore. Diciamo è il fratello minore di quel gioco là, che è un gioco 4X, che sono i classici giochi, come avete visto anche su PC, la saga di X, Exterminate, Expand, e tutto il resto che sono giochi di strategia su larga scala spaziale, dove dovrete andare a veramente muovere battaglia, a conquistare una galassia intera, perché no, anche un universo, e in questa edizione che vedete qua davanti il gioco viene da una parte velocizzato e da una parte, secondo me, anche un pochino cambiato. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Twilight Inscription, gioco della Fantasy Flight Games, come detto in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco di strategia, classico gioco 4X. Quindi, lo scopo del gioco è quello di guadagnare più punti degli altri giocatori seduti al tavolo, molto interessante, e questo si può giocare anche in solo. Lo potete giocare anche da soli, per quanto è una guerra al punteggio, c'è anche la modalità per giocarlo in solo. Bellissimo, dall'altro. È un gioco dove dovrete espandervi nei vari sistemi, che poi vanno a comporre la galassia, dove si muoverà tutta quanta la base del gioco, la storia del gioco, che vede un antico e glorioso impero, che è andato perso, distrutto, e ora è frammentato, e in questa mossa di queste varie fazioni, di questi regni spaziali alla conquista di questi sistemi, di questa galassia, c'è anche un po' la ricerca di vecchi marchi ingegno, comunque, come raccontano un po' anche i romanzi della Lorch, cioè il primo, veramente bellissimo, sempre edito da Asmod Italia, c'è anche la ricerca dei vecchi manufatti e monoliti di questo imperio che è andato perso. Il gioco, a differenza della sua controparte Twilight Imperium, non ha componentistica di plastica, quindi dimenticatevi le navette, dimenticatevi gli incrociatori, che laggiù dentro ce ne sono tipo 300, cioè una cosa disumana, veramente tantissimi, e tra l'altro, per quanto piccolini e anche dettagliati, bellini a me piacciono molto, di quando abbiamo delle tabelle, o per meglio dire quattro schede, che andremo a disporre sul tavolo, e dei pennarelli, classico pennarello con il cappuccio in cima, con sopra la gomma per cancellarlo, pennarello ovviamente non indelebile, dove andremo a scrivere direttamente sulle nostre quattro schede, segnare i punti, segnare gli spostamenti e quant'altro, e ogni volta che succederà qualcosa, o perderemo un settore, o magari il gioco ci dirà, segna qualcosa sulla scheda e dal turno prossimo cancellalo, voi semplicemente andrete a cancellare e riscrivere sopra. Consiglio che vi posso dare, magari, il pennarellino che c'è dentro, tappatelo bene, che non si secchi, perché sennò poi vi tocca ricomprarlo, e attenzione a non pigiarci troppo, perché sennò magari poi la gomma non ce la fa a cancellare il tratto e vi servirà magari un pezzettino di carta umida per mandarlo via, però non ci pigiate troppo, andate a scriverci sopra semplicemente. Abbiamo queste quattro schede, che sono schede di sviluppo planetario, che vi spiego fra un attimo, ma quella principale di queste quattro schede, che vengono pescate casualmente, quindi sono sempre differenti, ed è la figata del gioco perché non vai mai a esplorare lo stesso settore, gli stessi sistemi, la stessa galassia, ed è una cosa veramente carina, dove ognuno sulla sua prenderà il pennarello, ci sarà un punto di partenza e delle strade da seguire. Uno col pennarello deciderà quale strada, quale rotta spaziale seguire, e quando si avvicinerà a un sistema, arriverà magari nei pressi di un sistema, di un piccolo sistema, oppure un sistema principale, quindi potrebbe essere il nostro sistema solare, e arrivando lì potrà conquistarlo. Voi farete tutti i trattini sulla scheda col pennarello, e quando arriverete ad aver esplorato o conquistato un sistema, ci farete un tondo intorno, per far capire la strada che avete fatto. Ci sono anche i wormhole, ovviamente, i buchi neri, o meglio, i wormhole sono tutta altra cosa, comunque di solito vengono sempre chiamati così, dove potrete entrare per avere un jump gate, e sbucare da un'altra parte, magari nel vicinanza di un altro sistema, nella stessa galassia, a, magari, centinaia di anni luce di distanza, solo se avrete sviluppato il motore a curvatura, che lo trovate sulla vostra scheda, è una delle cose, a livello di logistica e costruzioni, che potrete andare a costruire per le vostre navi. Ci sono questi spostamenti, c'è la fase, ovviamente, una volta che avete conquistato, esplorato e conquistato un sistema, c'è un'altra scheda che fa vedere tutti i pianeti, ed è bellino perché ci sono, magari, in orizzontale e in verticale, delle risorse, delle cose da andare a fare, e una volta che avete preso queste risorse, che nel gioco hanno una nominazione particolare, magari se avete fatto tutta la linea in orizzontale, prenderete il bonus che c'è in fondo, se deciderete di fare la linea in verticale, prenderete il bonus che c'è in cima o che c'è in fondo, ovviamente, per come è stato disposto. Ed è carino perché una volta conquistato il pianeta, si guadagnano dei bonus, si guadagnano dei vantaggi, sotto forma di risorse o sotto forma di dadi da attirare per vedere che tipo di risorsa viene fuori. Il combattimento è molto carino. Abbiamo il combattimento diviso in quattro fasi, che sono le varie fasi, i vari turni del gioco. Nella prima fase si parte da quello in fondo e abbiamo un rettangolo diviso al centro da una riga. Quindi fa un rettangolo di sinistra e un rettangolo di destra. Nel rettangolo di sinistra dovremo schierare le navi per combattere il giocatore alla nostra sinistra. Nel rettangolo di destra dovremo schierare le navi per combattere i giocatori di destra. A sua volta il giocatore di destra, se ci vorrà combattere, dovrà mettere navi su quello sinistro, perché siamo alla sua sinistra. E andando a sbloccare e costruire navi, sono disegnate, che ne so, una nave potrebbe essere disegnata a T, uno, due, tre punti e due sotto, un incrociatore. Noi dobbiamo andarla a disegnare in quel spazio, a seconda di dove abbiamo seduto il giocatore, e una volta disegnate le navi andremo a contare i settori, i puntini che abbiamo unito in questa parte, in questa porzione del rettangolo e si andrà a fare il conto contro quello dell'avversario. Fondamentalmente chi ha le navi più grosse vince o chi ha più puntini, perché se quello ha schierato un incrociatore e voi ne avete schierati due, magari siete 10 a 5 e avete vinto lo scontro e vincendo lo scontro prendete la risorsa del vincitore mentre lui perde un punto battaglia. Insomma, tutto questo serve per guadagnare punti battaglia, punti vittoria e alla fine si farà il calcolo. Il giocatore che avrà punti vittoria più punti vittoria avrà vinto la partita e sarà il nuovo imperatore di Twilight Inscription. In conclusione, questo Twilight Inscription è veramente molto interessante. Si sente un po' la mancanza di qualche miniatura, qualche pedina, perché il bello di Twilight Imperium qual è? Che apri la scatola, la giri così, questo tavolo è pieno. cioè, pieno, inizi a prendere così e le tiri tipo coriandola e da quanta roba c'è dentro, di qua no. Però è una versione più veloce, anzi, secondo me questo fa da scuola a quell'altro, è una versione più veloce ed è una versione per tutti coloro che a parte non voler spendere magari 150 euro, a volte anche di più, per comprare la vecchia edizione, hanno voglia di qualcosa di più veloce. Perché questo, una partita in due, tre ore, due ore alla finite e si gioca anche in solo. Quell'altro dovete essere tre, quattro persone almeno e le partite a volte durano settimane. Perché ci sono dei giocatori che hanno finito una campagna, una giocata, beh, campagna sì, di Twilight e Imperium e ci sono stati magari veramente una settimana, se non di più, eh, trovandosi una sera sì, una sera no. Quindi è veramente, veramente impegnativo. Questo, diciamo, è la versione più veloce, però, a livello di contenuti, si sente la mancanza. Se uno ha conosciuto solo questo, non ci fa caso ed è molto interessante. Se qualcuno lo raffigura al fratellone maggiore, si sente un pochino alla mancanza, detto onestamente. Comunque, io ringrazio ancora una volta Asmod Italia per la copia fornita. Secondo me, passata a pieni voti, molto interessante. Se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, non solo al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito ed è finito, pallino rosso, oppure proprio in lista Twilight Inscription, non c'è, scrivete a Corrado, al supporto, mandate una mela al supporto della Gioco Libreria Semola e fategli presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice discount Coridan7, tutto scritto maiuscolo, per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79€, spese postali e corriere in 48 ore in tutta Europa. Quindi anche se siete fuori dall'Italia o isole comprese, arrivo a casa immediatamente, a volte a me mi sono arrivati anche in 24 ore, non ve lo nascondo. Quindi Gioco Libreria Semola per queste cose, miniature, giochi di società e tutto quanto è, secondo me, uno dei servizi migliori che ci sono in Italia. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e per me è promossa a pieni voti. Ciao, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate e ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!